Ciao a tutti, sono MLPG iLove e bentornati sul mio canale. Siamo in una nuova unboxing. Quindi, allora, il pacco è qua dietro. Non perdere tempo, perché non è che devo farvi vedere granché di questo pacco, oltre le mie informazioni personali che non voglio farvi vedere, quindi direi assolutamente di aprirlo. Perfetto. Adesso, mia scomparsa Lucci, la telecamera è stortissima. Apriamo questo pacchetto. Apriamo questo pacchetto. Oddio. Oh mio Dio, ma quanto sono grosse queste bolle. No ragazzi, ma quanto sono enormi. Oh mio Dio. Ragazzi, io non sapevo che esistessero delle bolle così grandi. Oh mio Dio. Che soddisfazione. Allora, comunque, queste le spiaccio dopo. Abbiamo questa cosa di carta. Il pony è intrappolato qui dentro. Momento ASMR. Cacchiera, non c'ho le forbici. Eh, vabbè, strappo tutto. Strappo, strappo. Tanto non ci faccio di niente questa cosa. A posto. Veloce e indolore. Ah. Forse indolore non tanto. Eh, ho strappato tutto. Tan 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 tan. Wiii. Lei è Skywishes. Questa è la versione Cutie Mark Magic di Skywishes. Perché in realtà ne hanno fatto un'altra diversione. Ed è quella che io ho. Ovvero quella ufficiale. Eccola. Questa è la versione ufficiale di Skywishes. La versione è quella esclusiva. Ultra rara. Ultra costosa. Io sono fortunatissima ad averla. Mi sento veramente fortunata. Questa è la Skywishes originale. Adesso vedremo le differenze tra queste due. Intanto la prima cosa che potete notare è il colore della pelle che è diversa. Oltre al fatto che questa c'ha la testa al doppio di questa. Ma quelle sono altri dettagli. Il colore della pelle è diversa perché qui è più rosa. E qui, cioè, qua è più sul viola. Non saprei come dire. Però sì, il colore è veramente diverso. Il colore degli occhi in realtà è più o meno lo stesso. Tranne per il fatto che qui c'è la sfumatura. Invece qua no. La forma degli occhi sono diversi. Lei ce li ha come la primissima Rainbow Dash. La primissima Rainbow Dash aveva questi occhi. Che io sinceramente adoro. Invece questa, vabbè, ha dei semplici occhi tondi. Come ce li ha adesso Rainbow Dash. Allora, il cutie mark è anche diverso. In parte che ce l'ha verso opposto. Come potete vedere, questo qui che è quello ufficiale. Ce l'ha praticamente di colore diverso rispetto all'altra. Come potete vedere. A parte il fatto che qui cambia che ce l'ha per tutta la gamba. E anche sull'occhio. Perché appunto fa parte della collezione Cutie Mark Magic. Quindi, vabbè, quella è una cosa di quella collezione lì. Ha gli occhi storti. Guardate, è strabica. I'm sorry, I'm sorry, Skywishes. I'm sorry, I'm sorry. Allora, i capelli sono un po' diversi. Allora, intanto sì, i colori sono gli stessi, ragazzi. I colori sono gli stessi, come potete vedere da qui. Sono praticamente gli stessi. E Skywishes ce li ha viola, fucsia e gialli. Anche qui sono praticamente uguali, soltanto che cambia il modo in cui sono stati fatti. Qua ha più ciocche, ha due ciocche per colore, come potete vedere. Più piccole, più strette. E ha una ciocca per colore, come potete vedere. Trande per qua. No, aspettate. Attenzione, attenzione. C'ha cinque ciocche addirittura. Io non lo sapevo. Qua c'ha il viola, fucsia, giallo. Poi riparte viola, fucsia. Senza giallo. Non mi aspettavo che i capelli fossero così, sinceramente. Perché io, non avendola, non mi potevo rendere conto. E poi la coda cambia di tanto. Qui c'ha soltanto un colore, ovvero il rosa. Invece qua c'ha anche il viola. Insieme, come tutti i Cutie Mark Magic, lei è stata venduta con questa collana, con anche questo ciondolo a forma di aquilone. Carino. Allora, nella descrizione c'è scritto un uovo con cartellino. E effettivamente si vede che è nuova, a parte i capelli che sono un pochettino crespi, ma basta una lavata e torna come nuova. Oddio, la testa. Oddio, la testa. Quali problemi c'ha sta testa? Non gira? Non gira? Non gira? Sì, wishes, non gira. Ok. Questa unboxing si conclude per adesso. Per adesso si conclude qui. A parte, non vi ho fatto vedere qui che l'attaccatura purtroppo è un po' storta, ma... Non ci possiamo fare nulla, signori, non ci possiamo fare nulla. Vero? Vero, Skywishes? Bene. Quindi, se il video vi è piaciuto, come al solito, mettete like. Iscrivetevi a questo canale se non siete iscritti. Commentate e seguitemi sui vari social che vi metto in descrizione. E niente ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. Bye! Bye!